Poi se lo sarà lui a consegnare in prega Vince la maletta coreografia 2011 Lo dici tu? Dillo tu Campani Red Fashion Campani Red Fashion Mascherata Mascherata Vieni Gnocchi Eh no, vediamo un po' chi derrare Non esagiriamo Allora, innanzitutto, com'è nata l'idea di questa moscata? Allora, io veramente volevo dire che qui sono quasi un intruso perché mi hanno involto, quindi questo premio andrebbe riterato a queste splendide ragazze che tu dicevi hanno organizzato. Ragazze bellissime, bravissime, a parte Sara Maroni che... Non è questa discriminazione. No, proprio bravissime, non è stato, però... Ma c'è, e vogliamo metterci un po' più avanti, vogliamo... Si fa sempre così dei premio, come alle Miss si chiede sempre che cose cambiano nella tua vita, ai premi si chiede sempre a chi vuoi dedicare questo premio? Allora, lo voglio dedicare alle ragazze, ma anche al mio compagno di viaggio che è Massimo, che mi ha accompagnato, è stato coinvolto insieme a me in questa performance, che ha voluto un po' sdoganare l'omosessualità. Perché no? Perché no? Allora, se siete d'accordo, prima di fare la consegna ufficiale del premio, per la sua. Gli ultimi preanni. E' un genio orgoglioso. Una città risorce del cuore. Pierdo di un inter che prodigioso, che domanda con grande stupor. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.